salve a tutti ragazzi allora qui sto studiando ancora quindi la testa mi gira ma faccio una piccola pausetta ecco in questa piccola pausetta visto che molti follower me l'hanno chiesto ma questo video pubblicherò sia su youtube che su instagram volevo sapere ma sinceramente ve lo dico prima di incazzarmi di parlare umano che veramente so peggio temburino ma io veramente vorrei sapere ma chi cazzo si chiedono ad esse conte agnelli cioè io non ho capito bene nella finale del ritorno che si sono detti sui sparti di rubentini che si sono detti i cuginastri tra di loro si sono insultati se bonucci ha detto rispetta tutti e poi tanto lui è il primo che non rispetta manco il cazzo che va sempre con gli arbitri a muso duro manco li volesse bacià che sono delle belle tope gli arbitri c'è li mortacci qua veramente comunque tornando a acqua stronti quei due stronti le conte di agnelli tornando a loro mortacci loro a procura indagato non gli ha dato manco una giornata di squalifica manco una cosa che ne so ma ma pare che ne hanno fatto un cazzo c'è stato solo si e no una manco un'inchiesta la si e no richiesta dei indagini ma poi alla fine ne hanno fatto un cazzo cioè ma dico io ma se può essere più stronti le così c'è l'anima ma via il vomito solo a pensarci c'è per il caso lukaku ibraimovic che l'hanno pure accusato da essere razzista l'hanno difeso in mille l'hanno difeso c'è stato un caso un pane mole per una cosetta detta in campo io da inizialmente stavo a pensare vabbè ma saranno coinvolte le mianese quindi vabbè alla fine fan culo insomma accade che magari vogliono fare un interesse siamo tutte e due siamo tutte e due l'ossessione dei giornalisti sia il milan che l'inter no da questa cosa di agnelli dei conte si è visto che solo il milan e l'ossessione dei giornalisti manco fossimo un mucchio delle belle trope che ne so dei fighe dei fregne c'è io non so veramente non so ma per noi si fa il pandemonio per il milan invece per conte agnelli non si fa un cazzo c'è quella agnelli che dico conte ha dimostrato cioè senti a me ha mostrato il dito medio e si è visto nel finale verso la tribuna da juve con agnelli che a quanto dicono lo insultava gli diceva di tutti i colori forse chi sta sulle palle non lo so manco io ma pure a me mi sta sulle palle pirlo a parecchi immagino ma nessuno si è permesso di mandarlo a quel paese come però si sarebbe meritato perché sino per il milan nasceva un pandemonio o appena una cosa succede al milan tutti quanti a dargli addosso appena succede qualcosa gli altri tutti muti manco stessimo in mafia stessimo a fa mafia 3 cioè io non ce posso credere raga non ce posso veramente credere cioè sempre tutti con termina ma che siamo ossessioni vostre mortacci vostra cioè dico io non dico squalificali ma agnelli se meriterebbe almeno una multa dei 78 milioni di emilioni 78 mila euro come cazzo che volete fare un paio dei giorni dei mesi di squalifica c'è il dirigente come a quello si mette insulta come il ragazzino e conta che parla di sportività poi il primo che non si mette che non si mette a posto che si mette sempre a parlare con gli altri di eh tu qua tu là c'è io non ce posso credere raga non ce posso credere c'è veramente c'è non si è fatto niente mi fa schifo mi fa schifo sta cosa c'è ma dico io ma manco la punizione manco un giorno fuori dalla panchina della tribuna per lui e per agnelli manco un po' di squalifiche manco per lui c'è l'anima degli mortacci vostri sempre quando c'è il milan tutti quanti buttano benzina su di noi dire beh più che benzina buttano piscio su di noi a dire però è questo il milan qua la il milan perde con l'atalanta e perdenti qua la e poi tanto appena si dipende nessuno dice niente l'atalanta ha pareggiato da 0 a 3 a 3 a 3 come cazzo era nessuno dice niente c'è sempre tutti contro il milan ma che cazzo volete da noi fatevi i cazzi vostri i mortacci vostri e delle vostre mamme